domani sera open day lo facciamo tutti gli anni ma quest'anno in modo particolare perché durante la pandemia sono veramente tante le persone che hanno chiesto di poter far parte della protezione civile per dare una mano purtroppo non è possibile dal dal dall'oggi al domani senza senza un corso particolare soprattutto il corso sulla sicurezza che è tenuto dalla regione marche quindi non è stato possibile far far operare tutte quelle persone che avrebbero voluto intervenire per darci una mano questa è l'occasione in particolare per chi vuole avvicinarsi al mondo del volontariato perché domani sera martedì alle ore 21 presso il codma vediamo se siamo se siamo pochi una ventina abbiamo la sala da 60 posti quindi saremo ben distanziati se saremo se saremo di più abbiamo la sala da 160 posti quindi vediamo domani sera per per mantenere tutte quelle distanze di sicurezza che ci sono che che sono d'obbligo in pratica abbiamo due sale che permettono questo non solo volontariato naturalmente visto in questo senso perché la protezione civile a segreteria cucina logistica un po un po tutto si abbraccia tutto in protezione sia la cinofilia ad esempio chi ha un cane un conduttore oppure chi vuole chi vuole in pratica fare da 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 uscire con i cani il figurante cioè la protezione civile abbraccia il tutto le due cose che noi non non abbiamo al nostro interno sono la sanità perché c'è la croce rossa l'antincendio perché c'è un'altra bella associazione che mondavio sul resto dove necessita in pratica siamo siamo aperti su questo settore a ricevere tutti i volontari naturalmente numero non è indefinito cioè non è tranquilla però questo in questo momento siamo in grado al perlomeno di fargli partecipare a un corso